La Sabatino Impianti Tecnologici e Investimenti SRL, con sede a Cava dei Tirreni in via Gaudio-Maiori 83B, è una solida ed affermata realtà industriale che si avvale di un importante studio di progettazione interno. La bocciofila Kennedy di Nola è stata il palcoscenico su cui è andato in scena il grande spettacolo del Master dei Campioni e delle Campionesse, FIB 2022. L'evento di altissimo livello della Federazione Italiana Bocce è culminato con le finalissime di domenica 13 novembre che, davanti a una cornice di pubblico numerosa ed entusiasta, hanno sancito il trionfo di Giuliano Di Nicola della Boville Marino e di Flavia Morelli della bocciofila Lucrezia. Il giocatore abruzzese ha trionfato in finale contro Gianluca Formicone della VIP Credaro Bergamo con due set vinti per 8 a 5. L'atleta marchigiana ha superato invece nella sfida decisiva l'emiliana Chiara Morano al termine della lotteria dei tiri al pallino 3 a 2 dopo il pareggio dei due set. Il primo ad appannaggio della portacolori della Lucrezia per 8 a 2 e il secondo in favore della giocatrice della Trem Osteria Grande Castel San Pietro per 8 a 1. Grande soddisfazione, arriva subito dopo quello del mondiale, bisogna già assimilare quella e ora è arrivata un'altra, meglio. Poi ho fatto un percorso netto senza aver perso mai un set che dà maggiore soddisfazione, vuol dire che sono stato sempre in palla e niente, sono molto contento. È stata un'emozione stupenda, per me è una rivincita dopo un periodo un po' demotivante, quindi ci voleva, ci voleva da atleta ma anche come persona e sono molto contenta. Alla bocciofila Kennedy di Piazzolla di Nola sono stati quattro giorni di bocce di alto spessore tecnico-tattico per una formula che dopo la prima edizione andata in scena nel 2021 a Terni si è confermata vincente, come ha sottolineato anche il presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis. Sono i più grandi giocatori italiani e forse del mondo, quindi cosa dire? La formula è vincente, non so neanche se la cambieremo perché è una formula veramente vincente, perché il tiro ai pallini è spettacolare, l'entusiasmo e la passione che vengono espressi qui al sud sono unici, veramente, devo dire la verità, quindi grande pubblico, anzi pure troppo fragoroso, ma lo sapevamo, e quindi è stato un grandissimo spettacolo tra l'altro tra due campionissimi, insomma, l'ex campione del mondo individuale in Argentina, Formigone, con l'attuale campione del mondo a Mersin, Giuliano De Nicola. A fare gli onori di casa sono stati il consigliere federale FIB, Franco Del Vecchio, e il presidente FIB Campani, Antonio Barbato. Tra le istituzioni politiche del territorio presenti, anche il sindaco di Nola, Carlo Buonauro. L'evento era di un livello eccezionale, la presenza del presidente della FIB lo ha confermato, gli atleti erano strepitosi e quindi io sono orgoglioso, a nome della città, di aver ospitato questo evento.